Quarantottesimo festival della Validitria è stata la volta nell'atro di Palazzo Ducale di Silent Carmen. Questa serata abbiamo due dei grandi del cinema hollywoodiano, Cecil B. DeMille, che nel 1915 crea questa sua Carmen. E poi, quando l'ha visto Charlie Chaplin, sempre nello stesso anno, nel 1915, voleva prenderla in giro. E quindi ha creato la sua Burlesque on Carmen, che è un film di 30 minuti, che prende in giro la Carmen di Cecil B. DeMille. Il direttore musicale Timothy Brock è la prima volta che è venuto a Martina Franca e soprattutto come l'è sembrata questa serata, questo coniugare musica e cinema? Sì, è molto speciale, l'immagine con la musica, certamente questa musica è molto famosa per tutti, ma questo film è più raro, ma insieme è miracolo, infatti. Silent Carmen è una nuova conquista per il festival, si discosta un po' da quella che è la tradizione e cerca, insomma, di scoprire nuove esperienze. Sì, è una nuova esperienza. Come tutte le esperienze si rischia di pagare lo scotto, però devo dire che dalla biglietteria avremo tutto esaurito, questa sera la platea del Palazzo Ducale. Questa nuova esperienza che va a coniugare in un film, un film mutuo, la Carmen, che è un'opera molto importante, con l'orchestra della Magna Grecia. E sono felice anche che c'è l'orchestra Magna Grecia, la nostra ICO, che sta facendo molto bene e che sta conquistando anche teatri importanti e spazi importanti sia in Italia che all'estero. Sono molto contento di essere qua, in mattina franca, prima volta per me, con questa orchestra anche, molto bravi, sono molto contento di essere qua. Le piacerebbe tornare quindi? Sì, è molto, solo in votazione io accetto. Era un grande piacere per me. Stasera una serata particolare, fortemente voluta appunto da Sebastian Schwarz. Un'esperienza nuova per il Festival della Validitria? Un'esperienza nuova in quanto cinema, cinema all'aperto, che d'estate è sempre piacevole viverlo come esperienza. Volevo far vedere quanto si estendeva, se si può dire, l'influenza della lirica fino a Hollywood o fino ai film dei nostri giorni. Le sfide bisogna anche affrontarle, bisogna anche andare verso una innovazione graduale rispettando l'identità. Per cui la peculiarità del nostro Festival non viene messa in discussione dal nuovo direttore, Sebastian Schwarz, il quale sta lavorando bene. Speriamo che alla fine i risultati vi diano ragione perché vi è venuto con tanto entusiasmo, ci sta mettendo tutto e sta lavorando con molta equilibria. Io sono felice stasera di vedere la platea del palazzo locale piena e come sono stato felice di sera dove c'è stato Gianni Sticchi al Teatro Verdi dove c'erano molti giovani che hanno seguito il film. Questa serata abbiamo due dei grandi del cinema hollywoodiano, Cecil B. DeMille, che nel 1915 crea questa sua Carmen. 50 ore, 56, 60 minuti, con una colonna sonora che prende spunta dalla musica ovviamente di Bizet, ma è un film mutuo. E mi sembrava un po' paradossale che la lirica, che vive proprio del canto e della possibilità di esprimersi vocalmente, ispirasse proprio il film mutuo. Un film molto 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 bello. E poi, quando l'ha visto Charlie Chaplin, sempre nello stesso anno, nel 1915, voleva prenderla in giro. E quindi ha creato la sua Burlesque on Carmen, che è un film di 30 minuti, che prende in giro la Carmen di Cecil B. DeMille. E quindi andavano mostrate insieme. Per questa invece la colonna sonora non sopravvive, non c'è. E quindi il maestro della serata, Timothy Brock, che è un grande specialista, ha creato, lui è anche compositore, ha creato la colonna sonora che ovviamente si basa sulla Carmen di Bizet, sulle musiche della Carmen di Cecil B. DeMille. E quindi ha creato una realtà sua. Sempre anche questo un film mutuo del 15, quindi una cosa molto particolare. Grazie a tutti.